Con lo chef Giuseppe Lombardi del ristorante dei Tuo, oggi un giorno felice, quanti anni compie? 73 anni. Una vita passata nelle cucine, ma ci racconta un po'. La mia vita gastronomica, sono 61 anni che sono in gastronomia, ho incominciato nei piccoli bar di Ischia, poi a 22 anni sono stato metto da alcuni importanti alberghi di Ischia come l'Eleos, Central Park, Hermitage, Miramara e Castello, come barman. Poi sono stato all'estero per tantissimi anni e nell'80 mi è venuta la passione per la cucina perché l'ho sempre tenuta. Stando in un grande albergo a 5 stelle in Germania, ho visto cose spettacolari fatte da un grande chef francese e ho lasciato tutto, mi sono buttato il cavo a volte in cucina e spero e penso di aver fatto una grande scelta. Quindi ha portato anche un po' di innovazione dai suoi viaggi? Innovazione senz'altro, diciamo che la nouvelle cucina che fanno adesso la praticavamo 40 anni fa, solo che io sono per la cucina tipica e classica mediterranea, non cambierò mai finché io sono in questo settore. Ma quanto è dura la vita della cucina? Niente, è stupenda, se viene fatto con abnegazione, con amore intenso come lo faccio io, mi diverto. Se non ho 73 anni sarebbe molto difficile lavorare. Quindi questo lavoro deve essere fatto con passione, possiamo dire che la passione è il primo ingrediente per far mangiare bene le persone? La passione è il primo ingrediente, se non c'è quello è inutile cucinare bene tutto. E anche il ristorante dei Tu ha subito la chiusura per il Covid, ma come stanno andando le cose dalla riapertura? Questo particolare, il Covid secondo me è stato di esempio per molti ristoratori di Ischia, perché stando via, e non ci sono adesso turisti come i russi, americani, tedeschi, i nostri colleghi, i nostri altri ristoratori di Ischia hanno fatto terra morta, che loro lavoravano con questi elementi che portavano tanti soldi. Certamente giocavano un po' sporco, che davano le percentuali agli albergatori, ai portieri, ai tassisti, quello che io non ho mai fatto fare dai tu. Come ho fatto adesso, noi la crisi non la sentiamo. Stiamo lavorando benissimo, quindi questo significa che se tu sai lavorare non hai bisogno di raccomandazioni. Quindi tutto sommato una stagione positiva? Noi positivissima, stiamo lavorando ad alto regime e siamo molto contenti.